Buongiorno! Stamattina vi porto in palestra con me. Prima di tutto mega cappuccino perché ultimamente mi sto allenando a stomaco vuoto e senza della caffeina in corpo non ce la posso fare. Dopo aver scelto l'outfit, minima preparazione per essere più presentabile. Di solito non mi trucco, per oggi dovevo registrare e poi prendo la mia bicicletta e vado in pale. Mi sono rotto pure un pedale, ma vabbè iniziamo questo workout total body dopo aver fatto un po' di mobilità e riscaldamento. Inizio con degli esercizi focus glutei come hip thrust ed ecco già le prime serie la mia faccia è questa. Poi sumo deadlift con kettlebell e infine i miei amati Bulgarian. Dopodiché passo ad annare l'upper con lat machine e rematore singolo e infine faccio un focus core. Oggi ci ho messo un pochettino di più perché ho anche registrato qualche contenuto, quindi il mio post workout coincide con il pranzo e finalmente è iniziata la stagione della zucca, poi mi sono messa a lavoro e ciao, ci vediamo al prossimo video!